ciao sono tornata vi chiedo perdono per la mia assenza di questi giorni ma dopo tutto ve l'avevo detto che questo non sarebbe stato un appuntamento quotidiano no lo so lo so come al solito sono partita in bomba con un episodio al giorno e poi mi sono persa per strada a mia discolpa però in questi giorni sono stata impegnatissima con la valanga di ordini che sono arrivati per il merchandising di camposanto grazie infinite sono davvero felice del vostro entusiasmo e vi ricordo che le borse ora sono in sold out ma oggi ho aperto i pre-order per le magliette lapidarie illustrate da laura angelucci tutte le informazioni e le istruzioni le trovate nel mio shop di coffee come ultimo avviso vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni al mio corso di podcaster for beginners organizzato da scintille book club che si svolgerà a partire dal 6 maggio e per tre giovedì consecutivi bene mi sembra di aver detto tutto possiamo iniziare l'argomento per la puntata di oggi mi è venuto in mente ieri sera in uno strano momento di semi dormiveglia non so se capita anche a voi ma quando io di sera vado a letto a leggere inizio tutta pimpante poi piano piano sento le palpebre pesanti capisco che mi sto addormentando perché leggo delle frasi e poi le completo inventandomi le parole vi capita mai me ne rendo conto perché poi ho dei momenti di lucidità rileggo e non trovo niente di quello che pensavo di aver già letto e poi perdo letteralmente i sensi e non faccio neanche a tempo di mettere il libro sul comodino e spegnere la luce se adesso se ne accorge in tempo ci pensa lui ma capita che lui si addormenti prima di me e quindi io mi accascio tranquillamente sulla pagina del libro o sullo schermo degli reader e poi mi risveglio di colpo nel cuore della notte con uno spigolo conficcato nella guancia e la luce ancora accesa allora raccolgo le forze spengo la luce metto a posto il libro e mi riaddormento questo teatrino si verifica almeno una volta alla settimana e non ha nulla a che fare con un libro noioso o con la mia stanchezza è indipendente succede e basta e mi è successo anche la notte scorsa con un libro che certamente non conciliava il sonno mi sono improvvisamente svegliata con la faccia spiaccicata sullo schermo del cobo e nel delirio del dormiveglia ho pensato ma certo come mai non mi è venuto in mente prima è questa la puntata che devo registrare domani e poi boom mi sono riaddormentata di nuovo se volete sapere che libro stavo leggendo di che cosa parleremo oggi ma soprattutto chi è lo scrittore che mi ha suggerito l'argomento della puntata nel cuore della notte vi consiglio di aspettare qualche secondo e di ascoltare il breve spazio pubblicitario l'altra volta è partito uno spot con nino frassica quindi penso proprio che ne valga la pena eccomi qua scordavo di dirvi che questo è lapidario lo sbrigativo fratello minore di camposanto e che io sono sempre la vostra giulia de pentor dunque 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 parlavamo di libri e di allucinati dormiveglia chi è lo scrittore che ha tormentato i miei sogni se mi seguite su instagram dove spesso metto gli update delle mie letture sapete già qual è il libro che ho iniziato ieri sera se non mi seguite male ma ve lo dico comunque il libro in questione è la nera e l'autore è dino buzzati sempre lui è proprio il caso di dirlo galeotto fu il libro e chi lo scrisse e chi lo scrisse fu anche galeotto più di una volta perché se mi ascoltate da tanto lo sapete già che buzzati è uno dei miei scrittori italiani preferiti e sapete già che non è la prima volta che mi mette sulla strada giusta per raccontarvi un cimitero se state ancora recuperando le vecchie puntate di camposanto e non capite di che cosa sto parlando correte subito ad ascoltarvi l'episodio sul cimitero dei fantasmi di silea e lì capirete un po di cose comunque dicevamo buzzati ha colpito ancora una volta il libro che ho iniziato ieri la nera è una raccolta di articoli che buzzati ha scritto quando era redattore del corriere della sera e copriva i casi di cronaca nera italiana la storia che vi voglio raccontare oggi però non arriva da questo libro bensì da quell'altro i misteri d'italia quello dove ho letto del cimitero di silea di cui vi dicevo prima insomma diciamo che nel dormiveglia allucinogeno di stanotte ho fatto dei collegamenti mentali abbastanza fantasiosi che mi hanno poi portato fino a qui non fatevi troppe domande e ascoltate quando questa notte mi sono brevemente svegliata mi è venuta in mente una storia che ho sentito raccontare tantissime volte una di quelle leggende metropolitane che si raccontano alle feste per far prendere paura agli amici avete presente o forse solo io avevo degli amici crudelli che si divertivano a spaventarmi vabbè comunque il collegamento mentale che ho fatto è stato pazzesco perché grazie al libro che stavo leggendo mi è venuto in mente che qualcun altro aveva raccontato quella storia tanti anni prima di quando l'avevo sentita io e quel qualcuno non era un adolescente ubriaco avete indovinato sì sì parlo proprio di buzzati vi racconto la sua versione della storia che è leggermente diversa da quella che conosco io sono sicura che anche voi prima o poi l'avete sentita e sono curiosa di conoscere le vostre variazioni nella storia di buzzati ci troviamo a treviso e c'è un certo luigi bertan che si innamora della bellissima marion e si fidanza con lei la ragazza purtroppo muore a neanche 18 anni di peritonite e lui disperato cade in uno stato di profonda depressione e per due anni non esce di casa i suoi amici ovviamente si preoccupano per lui e insisti insisti una sera lo convincono a uscire andare a una festa durante la serata lui conosce una ragazza bionda e si mette a parlare fitto fitto con lei nessuno degli amici conosce quella ragazza anche se tutti sono contenti di vedere che luigi si sta un po riprendendo in ogni caso sono tutti concordi nel dire che la ragazza somiglia straordinariamente alla defunta marion la festa finisce sono le tre di notte e luigi vuole accompagnare a casa la ragazza in macchina le chiede l'indirizzo ma lei non vuole rispondere e gli dice guarda tu guida io man mano ti do le indicazioni e ti dico quando fermarti quella sera fa molto freddo e luigi che vuole tentare il tutto per tutto con la ragazza le dà il suo pullover a un certo punto in piena periferia lei gli dice di fermarsi eccoci siamo arrivati scende dalla macchina lo saluta frettolosamente portandosi via il pullover e scompare lui è un po frastornato e se ne va però improvvisamente si rende conto che nel luogo dove ha lasciato scendere la ragazza non c'erano case allora torna indietro per cercare di capire dove è finita si è invaguito di lei vorrebbe sapere dove abita perché vorrebbe rivederla e non sa però come fare a ritrovarla la strada dove l'ha lasciata è completamente buia e non si vede nulla lui allora accende i fari e alla fine della strada intravede una cancellata si avvicina e nota che c'è qualcosa che pende dalle sbarre di ferro del cancello è il suo pullover e quello è il cancello del cimitero dove marion era stata sepolta anni prima avete ascoltato lapidario lo spin off di camposanto io sono giulia de pentor e vi ricordo che potete sostenermi attraverso coffee oppure ascoltando il breve messaggio pubblicitario che arriva alla fine dell'episodio sono curiosa di conoscere le versioni della storia della ragazza fantasma che conoscete voi quindi scrivetemi pure sui social o una mail a giuliacchiocciolacamposantopodcast.com si sentiamo presto ciao ciao iscriviti al canale